Bentornati su Radio Italians, è domenica 18 di febbraio e io vi saluto da Roma. Una cosa di cui non parleremo oggi perché non ci sono messaggi, quindi sarò breve, è la morte di Navalny, l'oppositore, l'unico vero oppositore di Vladimir Putin, morto in carcere in Russia dopo 27 trasferimenti da un carcere all'altro. Vi ricordo che Navalny era tornato dalla Germania dove era andato a curarsi, anzi a salvarsi dopo un avvelenamento avvenuto in Russia. Non sapremo mai se è stato eliminato, ma di fatto è stato eliminato, anche se non fosse stato un episodio preciso, un uomo trattato così è stato assassinato. La lista delle persone eliminate o assassinate in Russia negli ultimi anni è molto lunga e io credo che chiunque ammiri Vladimir Putin e ci riempia la testa con quanto è bravo, quanto è comprensibile che lui abbia invaso l'Ucraina o altre sciocchezze del genere, dovrebbe vergognarsi. Dunque, di cosa parliamo oggi? Parliamo d'altro, parliamo di testa di ammissione a medicina, ben due messaggi, tutti e due interessanti, uno di un medico, l'altro no. Poi parliamo di Facebook, compie vent'anni, poi parliamo della commessa eroe che si è offerta ai rapinatori in ostaggio, poi parliamo di Sanremo, se i giornali danno troppo spazio a Sanremo e poi alla fine parleremo di punto, fine, proprio di questo, di punto, fine. Oggi introduzione un po' lunga, ho bisogno ancora di 15 secondi per dirvi una cosa, ricordate di stare entro il minuto perché uno dei vostri messaggi vocali viene usato, già dalla scorsa settimana continueremo, come diciamo anticipo di Radio Italians che usiamo su Instagram, quindi non c'è la mia voce, c'è la vostra voce, è già accaduto la scorsa settimana, accade anche questa settimana, quindi mi raccomando, se riuscite a essere brevi è tutto più facile per tutti. Pronti? Via! Ciao Beppe, sono Franca da Londra. Ho letto che quest'anno per iscriversi alla facoltà di medicina si tornerà al concorsone e che l'anno prossimo probabilmente cambierà ancora. Che cosa ne pensi? Grazie. Grazie Franca di aver introdotto la questione, una questione importante. Allora, io sono incerto, ti dico la verità, e sai perché sono incerto? Perché ho alcuni amici medici, ma proprio amici e amici, quelli dei viaggi da ragazzi, proprio quelli che considero amici fraterni, tre di loro sono medici, uno fa il radiologo a Cremona, uno fa lo pneumologo a Bologna, lo sentiamo fra poco tra l'altro, un altro fa l'ortopedico infantile a Napoli, ma ce ne sarebbero anche altri, tra amici e conoscenti. E mi accorgo che anche fra di loro, e sono persone che stimo, esistono opinioni diverse. Ti dico quello che ho capito. Vantaggi di un concorso, comunque di un test di ammissione. Primo, si eviterebbero favoritismi, si spera, perché non c'è dubbio che l'ambiente medico abbia una certa tradizione nel portare verso gli studi di medicina, verso le cattedre, verso i posti in ospedale, non solo figli e parenti, guardate i cognomi. Non sto accusando nessuno, ma è evidente che è così, non è l'unica professione che lo fa, però accade, è inutile far finta di niente in alcune parti d'Italia più che in altri. Un concorso tende a evitare questo. Secondo punto, si ragiona su numeri precisi. Sappiamo di quanti medici abbiamo bisogno, sappiamo quanti medici, quanti studenti di medicina entreranno. Mi fermo qua per i pro. Ci sono alcuni contro, forse sono ancora di più. Il test di medicina porta nella facoltà di medicina le persone adatte? Lascio il punto di domanda, a questo rispondiamo fra poco. È arrivato un messaggio proprio su questo punto. Poi, i test sono corretti. Per esempio, ci sono domande di biologia. La biologia in alcune scuole superiori non si studia più e quindi magari bisogna fare dei corsi apposta per studiare biologia, mentre devi prepararti per la maturità, segnalo. E poi, siamo sicuri che siano sufficienti questi medici, considerato che alcuni degli studenti che entrano poi non si laureranno? E poi c'è una questione, siccome è molto importante, di cui si parla poco. Una volta che c'è un numero chiuso, quindi entra un certo numero di studenti, è quasi inevitabile che le facoltà tendano a spingerli in avanti. Un amico medico mi diceva, come facciamo? Sono già pochi e quindi inevitabilmente si crea una sorta di flusso di corrente che porta avanti i bravi, meno bravi e anche quelli scarsi. E questo non va bene. Mi fermo qui, come avete visto, io pendo dalla parte, i concorsi non mi convincono, però ammetto che ci sono anche elementi dall'altra parte. Adesso c'è una questione importante, state a sentire. Buongiorno, la facoltà di medicina e chirurgia è una facoltà differente rispetto alle altre, perché non deve formare solo tecnici, ma anche brave persone in grado di interloquire con i pazienti, con i loro parenti. Non entro nel merito del numero chiuso, ma del test di ammissione a medicina, che attualmente, secondo il mio parere, non è in grado di discriminare a peori chi sarà un bravo medico o meno. In altre nazioni, come l'Olanda, l'UK e in parte Francia, viene tenuto in considerazione per l'ingresso a medicina non solo i risultati di un test, ma anche l'iter scolastico e soprattutto alcune altre attività, come per esempio il volontariato, la frequentazione di ospedali o di medici di medicina generale. Io penso che attualmente i licei, mi riferisco in particolare ai licei a curvatura biomedica, sono assolutamente in grado di preparare gli studenti per ottenere dei buoni risultati al test d'ingresso medicina, che ripeto, non riesce, secondo il mio parere, a discriminare bene tra chi in effetti sarà un bravo medico o meno. L'opinione che avete ascoltato è quella del professor Stefano Nava, che è direttore della struttura complessa di pneumologia e terapia intensiva respiratoria al Sant'Orsola di Bologna. Allora, Stefano è anche un mio amico, uno di quelli di cui parlavo poco fa, quindi un amico fraterno, abbiamo fatto scuola insieme, viaggi insieme, siamo ancora davvero molto amici, gli ho chiesto un'opinione e me l'ha fornita. In un minuto, secondo me, ha detto cose sagge e non perché sia un mio amico, perché anche gli amici ogni tanto possono dire cose meno sagge, ma stavolta c'entra il punto. Medicina è la facoltà più complessa perché porta verso la professione più difficile, secondo me è più delicata che esista in assoluto, perché tu tratti con la salute e quindi con la vita delle persone. La preparazione tecnica è importante, ma assolutamente non basta. Qualche volta si ha l'impressione? Non sempre, perché i medici veramente bravi sono anche persone profonde, sono anche umanamente ricche, ma lo dico senza piaggeria, però ci sono anche gli altri e te ne accorgi. E quindi credo che una facoltà di medicina debba preparare in questo senso. Riascoltatelo, vale la pena. Buongiorno dottor Zevenini, sono Laura da Roma. Sono rimasta davvero colpita dalla poca eco-mediatica che ha avuto il gesto di estremo eroismo della commessa del centro commerciale in provincia di Venezia, che durante una rapina in gioielleria si è offerta di sostituire la sua collega presa in ostaggio e rischiando la vita al suo posto. Io credo che per una persona che diciamo al giorno d'oggi compie un gesto di questo genere, andrebbe dato sicuramente un riconoscimento e andrebbero scritti molti articoli. Invece è stata una cosa passata quasi sotto silenzio, come se fosse una cosa normale. Mentre magari a notizie molto meno importanti si dà un grande risalto. Lei cosa ne pensa? Sì, è vero, di questa vicenda non si è parlato abbastanza, anche se penso che la protagonista, una commessa di 55 anni, che si chiama Federica, riceverà, spero, una medaglia al valore civile. Cos'è accaduto? Che in una gioielleria di Marcon, vicino a Venezia, sono arrivati cinque rapinatori con rivoltelle e anche con fucile, pare, e hanno preso in ostaggio una commessa, una commessa giovane, che si chiama Giorgia, di 27 anni, che ha avuto una crisi di panico. La collega più anziana ha detto prendete me. E poi ha detto una cosa molto bella, l'ho fatto senza pensarci, l'ho fatto distinto, io sono uno che non pensa alle cose. Beh, oltre a fare i complimenti a Giorgia vorrei dire che secondo me molte delle cose belle della vita si fanno distinto, seguendo l'impulso e la passione, il cuore, compreso fare figli, vi assicuro. Quindi niente, complimenti, la vicenda è finita bene, le due ragazze le accomuno in questo bel termine, le due ragazze non sono state ferite, vediamo come andrà a finire. Quindi comunque, complimenti. Ciao Beppe, sono Roberto, 29 anni dalla provincia di Lecco. Da appassionato seguace del mondo dell'informazione, trovo abbastanza spiazzante che per esempio le home page di tutti i principali giornali, compreso il Corriere della Sera, per tutta la giornata riportino notizie su Sanremo, oppure che per esempio il Tg1, che pure è l'emittente che trasmette il festival, dà uno spazio enorme nella mezz'ora di notizie, appunto alle notizie del festival, quasi mettendo in secondo piano tra un collegamento e l'altro le notizie in questo momento terribili che arrivano da Gaza o comunque qualsiasi altra notizia di rilevanza internazionale. Ecco mi chiedo, nonostante il festival sia una settimana di festa nazionale che sostanzialmente ferma il paese, trovi opportuna questa eccessiva, secondo me, attenzione da parte dei media, oppure ritieni che per una settimana sia giustificabile. Grazie mille, a presto. È vero, sono d'accordo, direi che tutti i media con pochissime eccezioni hanno parlato molto di Sanremo, probabilmente anche troppo. Io ho una spiegazione che è anche un attenuante, perché io stesso ho seguito Sanremo, ne ho parlato, ne ho scritto, ho guardato quasi tutte le serate, magari non fino alle due di notte, perché non ce la facevo. Però vedete, Sanremo è una sorta di carnevale alternativo, c'è una sospensione della vita quotidiana, si parla di questo, le serate si commentano sui social guardando la televisione, il giorno dopo al lavoro si parla di questo e di questo. Se volete, molti dei temi obbligatori dell'attualità sono stati declinati via Sanremo. Abbiamo parlato di ingordigia commerciale, riguardando la vicenda che riguardava John Travolta. Abbiamo parlato di sensualità, pensate come si è presentata Anna-Lisa. Abbiamo parlato di spontaneità, che era quella della vincitrice Angelina Mango. Abbiamo parlato di Napoli, dei rapporti Nord-Sud con Geolier. Abbiamo parlato di Israele, Gaza e il nostro atteggiamento, perché Gali ha fatto il commento che ha fatto, eccetera eccetera. Quindi vi invito a essere indulgenti. Sì, è vero, abbiamo tutti un po' esagerato, però ripeto, consideratelo un carnevale alternativo e vi assicuro che non è un modo di sminuirlo. Ciao Beppe, Facebook appena compiuto vent'anni e volevo chiederti cosa ne pensi di questo social network. Grazie, ciao. I mesi di febbraio degli anni col 4 sono tempo di anniversari. Pensate che nel 1984, proprio in febbraio, il 16 febbraio, io finalmente coronavo il mio sogno, corteggiavo Hortensia da quando ero un bambino. Finalmente ce l'ho fatta, 40 anni che stiamo insieme, una bella storia d'amore. Grazie Hortensia di sopportarmi. Non c'entra con Facebook, ma io so anche che voi ricorderete questa prima parte, più di tutto il resto. Comunque, veniamo al compleanno di Facebook, che è invece febbraio 2004, febbraio 2024. All'inizio Facebook si chiama FaceMash ed era nato come un modo di decidere quali erano carine le ragazze di Harvard e quali no. Le due categorie erano Hort e Not. Oggi veramente non sarebbe ammissibile, però questo aveva fatto Mark Zuckerberg quando aveva 19 anni, poi nel 2005 è diventato proprio Facebook. È cambiato completamente, non è cambiato solo Facebook, sono cambiati anche i social. Me ne sono occupato oggi sul Corriere, anche il nostro set del Corriere ci ha dedicato la copertina venerdì. Sostanzialmente piattaforme che sono nate come luoghi per interagire fra amici, scambiandosi contenuti, stanno diventando forme di intrattenimento, diciamo, paratelevisivo destinate al consumo passivo. Era inevitabile, ma secondo me no. La verità è che una strada a doppio senso è tornata a essere una strada a senso unico, o quasi completamente. Come è potuto accadere? Non lo so. Penso che una parte di responsabilità sia dei fanatici che invece di commentare offendono e diffamano, ma da soli non ce l'avrebbero fatta. È successa anche un'altra cosa, diciamo, la rimonta dei professionisti. Chi sa comunicare ha imparato a farlo anche usando il social network, che infatti non a caso adesso tutti chiamiamo social media. Chi non sa comunicare o ha trovato difficoltà o semplicemente ha capito che preferiva guardare qualcuno di interessante con milioni o centinaia di migliaia di follower, piuttosto che produrre contenuti. Di fatto gli scambi veri fra persone che si conoscono avvengono nelle piattaforme chiuse. Pensate a Whatsapp. Il pezzo sul Corriere chiudo dicendo se volete sapere cosa pensano davvero gli italiani dell'immigrazione o dei rapporti di genere, entrate in una chat calcistica. Ma forse è meglio di no. Buongiorno Severnini. La volevo ringraziare tantissimo perché oggi mi ha veramente illuminato la domenica. Nel senso che ha risposto a un vocale, chiude, mi sembra su Sinner, chiudendo con punto fine. Guardi, veramente punto fine, lo dico sempre io quando discuto con i miei figli e dopo un po' mi stufo e dico punto fine. Perciò averlo sentito da lei che è una persona così pacata, così intelligente nelle risposte, così accogliente, così preparato su tutto, mi ha veramente rincuorato. Ho detto beh, se lo dice Beppe Severnini posso dirlo anche io ai miei figli. Perciò la ringrazio e la saluto. Beh, che dire se non che sei stata davvero troppo gentile. Diciamo punto, fine. Ci sentiamo domenica prossima. Radio Italians, i vostri vocali della settimana commentati da Beppe Severnini per il Corriere della Sera. Mandate un messaggio di 15 secondi al 345-6125-226 e riascoltatevi nei prossimi episodi. Radio Italians è l'appuntamento domenicale di Giorno per Giorno, il podcast quotidiano del Corriere della Sera a cura di Francesco Giambertone, coordinamento di Tommaso Pellizzari, produzione di Carlo Annese con Manuel Iannuzzo.